Avete sequestrato i media? Non rinunceremo al giornalismo. Questo è lo slogan dei centinae di giornalisti croati che hanno protestato a Zagabria contro le crescenti pressioni sulla stampa da parte delle autorità. L'intenzione è quella di consegnare al governo un documento con le loro richieste. Un giornalismo libero e giusto è un diritto umano per tutti. Senza la libertà di stampa non esiste una società libera. Noi giornalisti riteniamo che i nostri diritti devono essere rispettati come qualsiasi altro diritto. Non pensate sia così? Secondo quanto riferito dall'Associazione Croata dei giornalisti, sono oltre 1160 le azioni civili intentate ai danni dei rappresentanti dell'informazione vittime di censure e minacce.